Ben trovati nell'angolo dello sport. Pescara che continua a perdere, anche se con un Eurogoal, perché si ha l'impressione che sia stata veramente quella una botta della domenica, insomma. Gol splendido, però favorito anche dal fatto che nessun difensore ha cercato in quanto meno di chiudergli un pochino lo specchio della porta del tiro. Detto questo, un Pescara che naviga in acque bassissime con dei record alla portata che sono veramente i peggiori di tutta la storia del calcio nazionale. Abbiamo soltanto 14 punti, non lo so se arriveremo ai 21 punti del Treviso di tantissimi anni fa. Detto questo, però, oramai parlare del Pescara come partita giocata è in un utile consumo di parole, perché in definitiva adesso si deve pensare, e credo che lo stia facendo Zeman, al prossimo futuro, per vedere quali sono i giocatori da mandare via e quali quelli da confermare e soprattutto quelli da prendere. Perché ho l'impressione che sia da rifondare un pochino tutto, almeno al 70% questo Pescara. Però io faccio anche un altro tipo di riflessione. Lo dico per chi mi conosce poco, insomma, io sono molto attento sia alle parole dette dai vari personaggi del calcio, sia agli atteggiamenti che hanno. Allora in queste ultime due, tre settimane sono capitate un paio di cosine che lasciano riflettere, chi ha modo di riflettere però. Primo, Zeman viene attaccato ancora una volta duramente da signor Moggi, da papà. Zeman risponde per le rime, quell'altro contraattacca, insomma, in una maniera molto dura, però la posizione della Pescara Calcio, molto defilata, molto defilata, assente. Cioè, non erano cavoli di Sebastiani, però Zeman è il tuo allenatore, dovrebbe essere anche il tuo allenatore per l'anno prossimo. Primo episodio. Secondo episodio. Montari viene espulso, quindi si sa che viene squalificato. Chiede una giornata di permesso a Zeman, Zeman gli dice, vabbè, sei squalificato, puoi andare a Milano. Montari va a Milano, fa opposizione con la Pescara Calcio alla squalifica, squalifica che gli viene tolta, giustamente io aggiungo. Però il problema dove sta? Sta nel fatto che l'unico a non essere stato avvisato, proprio Zeman. Ma Zeman doveva essere avvisato. Prima, perché è il suo allenatore. Secondo, perché in caso di squalifica, sa di non poterlo far giocare. Ma in caso di annullamento della squalifica, deve vedere e saggiare le condizioni psicofisiche di questo ragazzo per sapere se deve giocare o meno. Tant'è che Zeman lo ha messo in panchina nell'elenco dei giocatori, dei panchinari, però non lo ha fatto giocare. Domanda, perché non l'hai fatto giocare? E non l'ho fatto giocare perché non era nelle condizioni di poterlo fare al meglio. Ma è chiaro che a pensare male si fa peccato, però con tutto quello che segue. Ci sono questi due episodi. Allora, l'attacco di Moggi, la Pescara Calcio non lo difende. Montari fa tutte queste operazioni insieme alla Pescara Calcio. L'unico a non essere avvisato è proprio Zeman. Che potrebbero significare queste due cose? Ma potrebbe anche significare che il feeling tra Zeman e la società è un feeling che si sta perdendo. Ne parleremo diffusamente nelle prossime edizioni di TVQ Sport. Un abbraccio a voi tutti come sempre. Un ringraziamento al regista Leo Di Blasio. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.